Ho deciso se chi vive in timbraio muore d'ordoglio e chi vive in d'ordoglio vive in timbraio perché l'ordoglio non serve perché la realtà viene sempre a casa e non si sta a fare ma troppo buono non si chi vive in timbraio a … ruparai alle idee che sui lì le loro che le loro la loro Un bravo, non sai neanche a di un po' daio, che sarebbe, che sarebbe, che sarebbe un'agliata un'elemente, che sarebbe un po' di puro con il, che sarebbe un utile, mi bravo buona, senza ombravo, olè, 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 olè.